Buongiorno a tutti, allora film pettina da Bruno che freddo che fa, infatti mi metto subito il cappuccio perché iniziano altri tre video di sci perché stiamo recuperando le gare della stagione 2022-2023 ormai siamo arrivati quasi alla fine, quasi, perché manca l'ultima gara prima delle finalissime l'ultima gara è una gara di slalom speciale femminile da Are del 11 marzo, dopo controllerò per sicurezza ma dovrebbe essere dell'11 marzo 2023 controlliamo subito, poi lo andiamo a raccontare perché è sempre meglio controllare piripiri piripaù, piripaù, 11 marzo 2023 com'è andata? Com'è andata? Andiamo a vedere innanzitutto la prima, un riepiloghino veloce veloce da leccarsi le orecchie la prima a scendere è stata Wendy Campanellino Holden e si era presa al primo posto l'altro non è scesa per prima, ha preso il primo posto adesso è scese tre nessuno gli è stata davanti, era lì che gongolava poi però, eh ragazzi miei, è scesa lei è lei o non è lei? è lei o non è lei? certo che lei, sua maestà Micaela Schifri e come bere un bicchierino d'acqua si è presa subito al primo posto con la bellezza di 94 centesimi di vantaggio nel mezzo però dopo la Schifri è scesa la Svenlau Lorson che si è riuscita a inserire tra lei e la Campanellino Holden con 69 centesimi di ritardo tenendo conto tra l'altro ragazzi miei che la decima che uno dice la decima sarà lì a un secondo e mezzo sarà lì a un secondo no la decima era a un secondo e 99 centesimi per farvi capire che dislibello c'è tra sua maestà e le altre almeno in slalom speciale anche perché la vlova non è stata ingiornata purtroppo prima match da dimenticare fuori dalle prime dieci se non erro e poi vedremo come è andata la seconda match perché magari fatto il rimontone per quanto riguarda le italiane si sono qualificati in 2 su 5 con la Rossetti 27esima e la Gulli bravissima 29esima con un pettorale piuttosto alto poi vi dirò anche le altre come sono messe se ve lo dico subito per quanto riguarda le sciatrici che sono scivolate tra le prime 30 e non hanno terminato la gara soltanto in 2 la Grish col pettorale 10 inforcata classica e la Jutic fuori al terzo intermedio errore più inforcata quindi solo loro due non hanno terminato la gara bene 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 classifica prima match come vi ho già detto prima scifre in seconda Svellorson terza Oldener al quarto posto troviamo la Aronson-Helfman al quinto la Molsan al sesto la Saint-Germain al settimo la Bicic all'ottavo la Dür al nono la Hector e al decimo la giovanissima Lebyr che se qualcuno mi ha seguito durante le gare del mondiale la Lemur l'abbiamo conosciuta nel parallelo tra l'altro ha eliminato anche le nostre ragazze se non ricordo male giovanissima per quanto riguarda le altre italiane abbiamo la trentaseisimo posto la vera preferisco dirvi la vera perché io non so sta povera ragazza quando va a scuola che deve scrivere nome e cognome dirà ma i miei genitori avere un cognome un attimino Thaler Tishund no Tishund Schenthaler trentaseiesima comunque la vera trentasettesima la Peterlini quarantaduesima la Lorenzi quindi fuori dalle prime trenta le uniche appunto si sono qualificate la Rossetti e la Gulli però ragazzi miei noi non possiamo avere in slalom speciale delle ragazze che si qualificano con gli ultimi tempi e per grazia ricevuta tutte le volte noi abbiamo bisogno di una punticina di diamante che non dico vinca le gare ma sia sempre tra le 15 ogni tanto tra le 5 ogni tanto tra le prime 10 ogni tanto tra le prime 15 ma faccia sempre delle gare così speriamo che arrivi presto perché non è possibile che in discesa libera abbiamo un fenomeno in gigante abbiamo la Brignone che fa bene abbiamo la Bassino che fa bene abbiamo la Curtoni che è un'altra polivalente che fa bene un po' dappertutto eccetera 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 c'è qualche ragazza alle loro spalle che sta crescendo un po' lentamente ma sta crescendo come le sorelle del lago che l'anno scorso cioè nella stagione appena che vi sto raccontando ha detto non ho fatto granché ma mi aspetto molto in quella che è appena finita spero che libidine non so nulla ma ne parleremo con la settimana prossima perché adesso devo finire queste comunque lasciando perdere tutto questo discorso andiamo a vedere come è andata la seconda manche perché se no facciamo notte e mi picchiate allora la prima è scendere la tedesca il singer jessica o c'è la jessica o vedi c'è la jessica trentesima dopo la prima manche vediamo se saprà recuperare qualche posizione il suo tempo è 1.45 e 22 tempo totale tra prima e seconda manche naturalmente naturalmente qua lascio come sempre a lato la prima manche che poi faremo la comparazione spero di ricordarvi perché ogni tanto mi dimentico tocca la nostra gulli 29esima dopo la prima manche vantaggio sulla tedesca di 30 centesimi purtroppo sbaglia ma decide lo stesso di finire la gara e termina con un ritardo di 8 secondi e 11 che difficilmente anche se non dovesse arrivare proprio trentesimo deve arrivare anche 28 29 27 26 quello che è perché magari qualcuna la burla già credo che il distacco sia superiore di quel minimale che tu devi mantenere tra il computo totale del tempo della prima eccetera se lo sorpassi mi sembra sia l'8% non ti danno punti però almeno è arrivata fino in fondo magari lo terranno ne terranno conto per il pettorale tocca alla nostra Marta Rossetti 27esima dopo la prima manche vantaggio di 32 centesimi sulla tedesca alla fine si prende il primo posto ma purtroppo con soli 15 centesimi di vantaggio quindi non incrementa e credo che sarà dura recuperare tante posizioni tocca la Twiberg 25esima dopo la prima manche e 4 soli centesimi di vantaggio sulla nostra Marta Marta Rossetti ma proprio dopo il terzo intermedio in luce verde di 7 centesimi la norvegese se non sbaglio la Twiberg scusate un attimo che controllo perché è sempre bello dare una controllatina perché non so se è norvegese provarsi che sia norvegese però o è svedese o è norvegese puff norvegese norvegese sempre nordica è comunque non è che cambia più di tanto però deve salutare la gara e la nostra Marta recupera un'altra posizione o se entra nelle 20 non è mare tocca alla Stoffel 23esima dopo la prima mace vantaggio di 7 centesimi sulla nostra sciatrice buona prova dell'elvetica che si prende il primo posto con 32 centesimi di vantaggio ero lì per metterle però ho detto aspettiamo un attimo per libidino perché comunque aveva 7 centesimi li ha portati a 32 di solito una merita almeno libidino però ha detto aspettiamo che scenda la GUD sua compagna di squadra 23esima anche lei quindi stesso tempo e signori miei la simpatica GUD stava facendo una super gara ma ahimè ha sbagliato qualcosina nell'ultima parte ed è quindi prima per soli 26 centesimi senza quegli errori poteva arrivare al primo posto con addirittura mezzo secondo forse più di vantaggio quindi per cui questa è una gara un po' più da libidine ecco per intenderci tocca la Hoelund giovanissima svedesina questo sì sono sicuro che è svedesina ventesima dopo la prima masce vantaggio di soli 4 centesimi sulla sciatrice svizzera sono tutte molto vicine quelle che hanno posizioni alte di classifica una una buona prova davanti ai suoi connazionali si prende il primo posto per 22 centesimi magari riesce a entrare nelle 15 la simpatica Hoelund tocca la Popovic sedicesima dopo la prima masce vantaggio che comincia a farsi interessante 44 centesimi sulla giovane svedese nonostante un errorino nel finale si prende il primo posto però per soli 7 centesimi quindi la classifica dopo che sono scese le atlete dalla trentesima alla sedicesima posizione vede la Popovic al primo posto la Hoelund al secondo la Goud al terzo la Stoffel al quarto la Dubosca al quinto la Gisin al sesto la Rossetti è settima quindi male che vada sarà ventiduesima quindi cinque posizioni recuperate piuttosto che niente è mai un toast la Hilsinger è ottava la Linsberger che non si ritrova più è nona e la Nullmayer è decima la Linsberger non si riesce a capire che involuzione ha avuto io francamente cioè boh perché se tu sai sciare sai sciare io so nuotare non è che siccome non faccio nuoto da tanto tempo se vado in acqua affogo perché non mi ricordo più come si nuota magari sarò posso essere fuori forma ma siccome queste ragazze si fanno il mazzo a tarallo in allenamento le vedi mettono postano che sono lì che cioè ci danno dentro a più non posso come delle pazze si tirano dei muscoloni da paura degli addominali da paura quindi cioè boh non riesce più a sciare tocca la miliard quindicesima dopo la prima manche e vantaggio di soli 7 centesimi sulla sciatrice croata che appunto è la popovic gara in luce rossa seppure di pochi centesimi ma l'errore della croata nelle ultime porte le permette di stare davanti con ben 25 centesimi di vantaggio quindi la miliard sfrutta appunto l'errore della popovic nell'ultimo tratto infatti vi dicevo stava facendo una gran gara e poi però è sbagliato all'ultimo e quindi si è preso il primo posto di poco e quindi fruchet è già sorpassata tocca alla blova dodicesima dopo la prima manche ma ahimè non ho fatto in tempo a scrivere che ha che ha commesso un errorino è ripartita lo stesso ma si era si era fermata poi ha perso probabilmente un po' l'abbrivio un po' il nervosismo un po' tutto quello che volete ha inforcato definitivamente appena superato il secondo intermedio e ciao gara quindi giornataccia molto molto negativa per la blova può capitare il guaio è che a lei capita anche un po' spesso non tantissimo ma un po' di più e la Schiffel no se tu vuoi sfidare la Schiffel devi essere un palo un missile perché se no quella è continua come chissà che cosa tocca alla Dürr vantaggio di 69 centesimi sulla sciatrice svizzera e ottava dopo la prima manche gara discreta si prende la prima posizione ma con solo i 15 centesimi di vantaggio vedremo ma sarà dura recuperare posizioni perché ne aveva 69 è scesa al traguardo con solo 15 capite che non è incrementato ha sfruttato il vantaggio per porsi davanti però ragazzi miei vedremo tocca la Saint Germain perché ahimè la Bicic non riesce a stare davanti alla Dürr quindi ci prova la Saint Germain sesta dopo la prima manche vantaggio di soli 13 centesimi sulla sciatrice tedesca canadese una bella prova della ragazza canadese si prende il primo posto con ben 44 centesimi di vantaggio gara molto interessante perché tenete conto aveva solo 13 centesimi li ha portati a 44 quindi potrebbe vedremo tocca la Bolsa quinta dopo la prima manche vantaggio di 22 centesimi sulla sciatrice canadese gara sempre in luce verde ma perde quasi tutto il suo vantaggio nell'ultimo tratto ed è prima per soli 5 centesimi anzi addirittura sembrava che non dovesse manco stare davanti alla Saint Germain che è la canadese quindi sfida Stati Uniti Canada per ora vincogli Stati Uniti tocca la Aronson Hellman quarta dopo la prima manche vantaggio anche per lei di 5 centesimi sulla sciatrice americana quindi erano tutte distaccate di 5 centesimi una dall'altra dicevano in una pubblicità di tanto anni fa la potenza è nulla senza controllo e la simpatica svedesina appena sopra i vent'anni è scesa a cannone infatti era in luce verde al secondo intermedio se non sbaglio addirittura di 65 centesimi ma poi dopo scusa è andata giù a cannone e non riesce a stare dentro inforchi e saluti la gara magari se fosse sceso un attimino con un pochino più di calma perché va bene il coraggio però sei lì portatelo a casa però scusate questi però 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 i cronisti dicevano che le sciatrici è meglio che vadano giù a cannone rischino e poi come va va piuttosto che stare lì col freno tirato che poi arrivi giù e perdi 10 12 15 posizioni vabbè zitta zitta cacchia cacchia intanto la bolsa sogna il podio perché ne mancano solo 3 tocca a Wendy campanellino oldener terza dopo la prima masce vantaggio di 33 centesimi sulla sciatrice americana quando invece potenza e controllo funzionano libidine la masce è ottima e si va a podio perché ragazzi miei la simpatica Wendy campanellino oldener come la chiamo io porta al suo vantaggio da 33 centesimi a 62 centesimi si prende il primo posto e siccome ne devono scendere solo due è matematicamente sul podio edesimo podio della sua carriera tocca la Sven Lorson vantaggio di 25 centesimi sulla Svizzera e seconda dopo la prima masce anche per la Sven Lorson è podio assicurato perché è seconda con un distacco di pensate soli 3 centesimi però è seconda in ogni caso è podio per la Sven Lorson che giocava anche tra l'altro in casa quindi felicissimi i suoi tifosi eccetera eccetera però adesso signori miei col fatto che la Sven Lorson è arrivata terza e quindi la sfida è tra sua maestà Michaela Schifrin e la simpatica Wendy Campanellino Holden che aveva la bellezza di 94 centesimi di distacco dalla Schifrin quindi la Schifrin parte con 94 centesimi di vantaggio capiti che questo è un calcio di rigore a porta vuota per la Schifrin che infatti vince tranquillamente perdendo pensate solo due centesimi del vantaggio che aveva due centesimi e si prende comodamente allegramente vittoria o se preferite primo posto e vittoria numero 87 record dei record dei record della storia dello sci alpino perché l'unico che le mancava che ha raggiunto ma non l'aveva ancora superato era Ingmar Semmar che aveva 86 vittorie lei adesso ha 87 vittorie adesso che siamo però ragazzi miei all'11 di marzo del 2023 quindi a meno che non sia ritirata e l'anno scorso che sta finendo la stagione non ha partecipato le mancava solo un podio o anche un'altra vittoria non è che cambia più di tanto per raggiungere l'insivone che è l'unica per il momento che gli è davanti come podi perché all'11 marzo 2023 dopo aver vinto lo slalom speciale di Are la simpatica Michaela Schifrin che due o tre giorni dopo avrebbe compiuto gli anni se non erro aspettate che vado a vedere la simpatica Schifrin quando compie gli anni 13 marzo quindi gli ha compiuti ha compiuto quest'anno che siamo nel 2024 29 anni ma stiamo parlando dello scorso anno quindi ne faceva 28 e lei ha la giovanissima età di 28 anni le manca un podio per arrivare a 137 podi e raggiungere a pari merito l'altra americana l'insivone che vanta non altrettanto vittorie come lei ma a 137 podi quindi col fatto che poi ci saranno le finali quindi c'è uno slalom una discesa libera un super G e uno slalom speciale a 3 barra 4 gare per provare a prendere ancora l'ultimo podio che le servirebbe o addirittura prenderne due e andare a sorpassare pure la Von e poi dopo ragazzi miei è lei contro lei dove arrivo arrivo e pensate solo 28 anni quindi tranquillamente un altro paio d'anni li può fare se non di più dipende da lei dipende da Kild visto che è fidanzata con il Kild e quindi vedremo andiamo a fare la solita comparazione poi andremo anche a vedere le bimbe italiche che cosa hanno combinato allora nella prima manche la Lemur era decima ahimè nella seconda non ha fatto una buona gara è uscita dalle 10 la Hector era noda ma ahimè anche lei non riesce a rimanere nelle 10 la Dur era ottava e sale in sesta posizione la Bicic era settima ma perde due posizioni e finisce in nona posizione la San Germain era sesta e sale in quinta posizione la Bolzano era quinta e sale in quarta posizione al termine della gara l'Aronson Hellman è caduta la Holden era terza e arriva seconda la Svellorson era seconda e scende in terza posizione e infine la Schifri era prima e se la prima ragazzi miei è già una sentenza una Schifri che alla fine della prima masch è prima al 99% della seconda masch resta prima se no ci sono solo due opzioni o resta dalle prime tre quindi un podio o cade non ci sono altre altre opzioni è capitato rarissimamente che una Schifri in prima nella seconda masch arrivasse settima ottava decima eccetera 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 solitamente riesce sempre a stare a stare a podio detto questo ragazzoli gli manca solo l'ultimo podio per raggiungere anche l'altra fenomena americana le femmine americane non so cosa gli danno da mangiare però questa ogni generazione ne spunta una più forte dell'altra magari non in tutte le discipline però che vada bene in almeno 2 o 3 ci sono la Vonna era fortissima in super G e soprattutto discesa libera la Schifri se la cava in discesa libera è quasi imbattibile in slalom speciale e direi che in slalom gigante è tra le prime 5 tranquillamente e a volte anche in slalom gigante diventa quasi imbattibile detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso vado a fare la prima discesa libera delle finali prima quella maschile e poi faremo anche quella femminile perché sono iniziate le finali del 2023 e quindi un anno fa le andiamo a rivedere adesso ho cominciato con quelle due lì nella giornata di giovedì vedrò di fare i due super G maschi e femmine e se riesco anche uno o tutti e due i paralleli però per nazioni però non quindi ancora a squadre fanno un parallelo a squadra non so cosa possa servire comunque vabbè fanno il parallelo a squadra io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao chau ciao